Si presenta davanti alla porta di una condomina imbracciando un fucile d'assalto elettrico per soft air modificato e senza tappo rosso. È accaduto martedì 19 maggio. Il protagonista del ride, un italiano di 50 anni già noto alle forze dell'ordine, si è presentato al piano di sopra per intimorire l'inquilina con la quale i rapporti erano alquanto tesi. Alcuni vicini di casa, allertati dalle grida che provenivano dalle scale, hanno chiamato la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri, segnalando la presenza di una persona armata all'interno di un appartamento. Sul posto sono giunte immediatamente tre gazzelle. I militari dell'arma, entrato nello stabile, suonando da altri condomini, hanno bloccato l'uomo al quarto piano, mettendo in sicurezza il fucile. Poi è risultato essere invece una fedele riproduzione elettrica verso soft air. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri e dovrà rispondere di atti persecutori e minaccia aggravata. Grazie a tutti.